Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Eurotrack Simulator ho preso un prestito di 500.000 euro ho fatto un prestito di 500.000 euro perchè volevo prendere un altro garage qui in Svezia e soprattutto i rimanenti li volevo utilizzare per pagare il prestito il garage di qua guardate che culo ok compriamolo vi faccio vedere quando acquisto il garage con 180.000 euro appunto posso prendermi il nuovo garage e ci possiamo andare a dormire allora dovrebbe esserci anche la pompa della menina però non lo so allora se per esempio io entro ad aggiornarlo perchè con questo prestito possiamo non è un cittraga allora con questo prestito poi ovviamente bisogna ridargli pian piano poi lo facciamo allora John Copping vedete a giorno diventa 5 mi sembra infatti con 120.000 con 120.000 appunto abbiamo possiamo possiamo trasferirci a John Copping allora John Copping allora a lui assumo un autista e andiamo gestione camion no rivenditori e andiamo a prenderci magari prendiamo un Duff che ce l'ho già un Duff eh però lo voglio prendere vediamo adesso vediamo cosa c'è no l'XF non mi piace c'è solo l'XF questo è il Duff aspetta serie XF questo è il Duff XF Euro 6 va bene Euro 6 XF 105 proviamo il 105 con questo hai questo hai 510 cavalli e mi dai delle cose della Michelin vai confermo acquista dovrei guidare il camion no lo metto a John Copping e tiro 15 ok no si l'ho presa quindi non posso acquistarlo perchè 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 non ci abbiamo soldi giusto 220.000 e adesso se noi andiamo a dormire no ok vedete possiamo andare a dormire e i nostri autisti ci porteranno dei soldi continuando a dormire noi guadagneremo soldi e che dire ragazzi appunto vedete siamo a 22.000 pian piano pian piano ci porteranno soldi che ci aiuteranno a pagare il prestito più ti fai soldi più più ti fai facilmente soldi e meno dovrai fare lavori brutta merda figa se fai schifo allora questo video è stato breve perchè volevo dimostrarvi questa roba questa roba dei garage vedete ci ha portato altri 1.000 euro ecco 50% che cazzo è il sto pirla che pirla incidente mortale infatti è un incidente mortale raga allora lui lo ripariamo 90.000 60.000 porca puttana per esempio per esempio se ci eh loro ci porteranno i soldi e ci aiuteranno appunto aaaaaa allora andiamoci a sistemare questa roba e sistemiamola non facciamo cagate roviniamo la serie di youtube paghiamo 72.000 e ci mettiamo in quel posto ci mettiamo in quel posto allora nel prossimo episodio andremo a andiamo adesso a cercare un bel lavoro perchè dobbiamo guadagnare soldi si deve guadagnare dai vai vai pirla ovviamente c'è la c'è il problema del oh Gesù Cristo questo e dai eh andiamo andiamo in questo DSV va niente va niente raga vai ci mettiamo in questo e poi ci salutiamo appunto andiamo a Toulouse no 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 no